In Audacity ora voglio inserire degli effetti utilizzando il menu Genera Quindi vado, duplico innanzitutto il mio file Seleziona, modifica, duplica Ho duplicato il mio parlato Vado ora a mutare la prima traccia E faccio, quindi seleziono la seconda Che mi permetterà di fare le mie sperimentazioni Vado ora a selezionare ad esempio questa parte del file Vado in Genera Stridio Posso scegliere la forma dell'onda Sinusoidale Oppure quadrata Dente di sega quadrata no alias La frequenza, lascio questa frequenza Potrei anche modificarla se non mi piacesse E l'interpolazione che può essere lineare o logaritmica E la durata Vado a sentire l'anteprima Questa anteprima mi piace e mi soddisfa Faccio ok E vado ora a selezionare la traccia La porta infernale Canto terzo Come vedete ho inserito questo stridio iniziale Per poter magari animare Quella che è la registrazione di un audio Ora voglio aggiungere il pizzicato Seleziono sempre la prima traccia Seleziona E vado a duplicare di nuovo la mia traccia Per fare e per sperimentare l'effetto pizzicato Di nuovo seleziono questa porzione Vado in Genera E clicco su pizzicato Mi dà la possibilità dell'intonazione del pizzicato MIDI Quindi scegliere la soglia Il tipo di dissolvenza o improvviso graduale Scegliamo graduale E la durata Andiamo a sentire l'anteprima Mi piace Potrei comunque modificarlo Se volessi nell'intonazione del pizzicato Lascio così Faccio ok Seleziono E vado a sentire la registrazione La porta internale Canto terzo Per me Per me Si va Nella città dolente Per me Per me Ecco Io Vabbè ho lasciato Dovevo silenziare Sia la prima che la seconda traccia Solo Solo No Solo Muto Muto Ok Sono muti E vado a risentire Quello che ho fatto Nell'ultima traccia duplicata Che è solo La porta infernale Canto terzo Per me Si va Nella città dolente Ecco Adesso con le selezioni Sono a posto E vedete che ho Aggiunto l'effetto pizzicato Ritorno Muto la traccia Le altre tracce E Lascio solo la prima Poi vado in modifica E duplico Di nuovo La seleziono Prima Questa traccia Modifica E poi la duplico E vedete che mi ha duplicato di nuovo Per Inserire un altro Effetto con genere Quindi seleziono Sempre Vado a ricontrollare Sì che le altre Siano mute Anche la prima Muta Muta Muto 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 La prima Questa È rimasta Attiva Ok Solo Solo Seleziona Quindi vedete che le altre tracce sono mute L'ultima duplicata Invece È attiva Ed è selezionata Quindi vado a Sempre Selezionare Una parte Del file E vado Ora In genere A mettere Un tamburo Reset Posso Quindi cambiare La frequenza Il decadimento Io direi Di lasciarlo Basso La frequenza centrale Del rumore La larghezza La larghezza di banda Del rumore E la quantità di rumore Nel mix E l'ampiezza Quindi ho modificato Soltanto la frequenza Vado a sentire Vado a sentire l'anteprima Mi pare una buona soluzione Ora seleziono Ok Seleziono questa traccia E vado a sentire La porta infernale Ecco Quindi In questo tutorial Abbiamo aggiunto con genere Degli effetti E ne abbiamo visto il risultato Questi effetti erano lo stridio Il pizzicato E il tamburo Rissegno